E se uno sta facendo un'alimentazione iperproteica, può integrarlo con questi prodotti di cui parlava prima, biscotti, pane, grissini, sviluppati con queste proteine vegetali? Sì, allora direi che ci sono anche qua un paio di considerazioni da fare. La prima è che non va mai bene mescolare regole diverse, come se lei andasse da un medico che le dà una medicina, poi vedo un altro medico, un'altra medicina, le metto insieme e faccio un mix. Non è così che funziona, quando si fa il suo regime bisogna seguire quello. E poi c'è un motivo più scientifico che è quello che comunque l'alimentazione chetogenica e alcuni di questi prodotti ci sono grassi e chiaramente questi grassi bisogna saperli maneggiare. Allora, saperli maneggiare in un regime chetogenico controllato è un conto, saperli maneggiare in un altro contesto diventa più difficile e potrebbe diventare controproducente. Bene, noi ringraziamo e salutiamo il professor Antonio Paoli dell'Università di Padova. Grazie di essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti.